Se il 2018 per Huawei si è chiuso con il botto, con l'ottimo Huawei Mate 20 Pro possiamo dire lo stesso per quanto riguarda l'inizio del 2019, ma su una fascia di mercato ben differente. Il primo smartphone dell'azienda è il P-Smart 2019 e fa parte della fascia di mercato più ricca di alternative e permettetemelo di dispositivi interessanti per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. E questo P-Smart 2019 è proprio questo, rappresenta il consolidamento dell'azienda in questa particolare fascia di mercato caratterizzato da un design molto simile a quello del P20 Pro caratterizzato però da un notch a goccia molto bello da vedere e da un prezzo estremamente competitivo. Parliamo di 249€. Come sarà questo smartphone di Huawei? Vediamolo assieme. Come premesso, il design del Huawei P-Smart 2019 ricorda a tratti quello visto nel P20 Pro. Le curve sono molto morbide e i lati e le colorazioni sgargianti lo rendono sicuramente molto appariscente. Il sample che abbiamo ricevuto in prova è di colorazione nera, ma è anche disponibile nella versione Aurora Blue, molto più bella a mio parere. Realizzata totalmente in policarbonate caratterizzata da una doppia fotocamera verticale e dalla presenza del sensore per le impronte digitali, la back cover del P-Smart 2019 risulta un tutt'uno con la cornice. I tasti di accensione e il bilancino del volume sono posizionati sul lato destro del dispositivo con un'altezza molto comoda da raggiungere anche con una mano, mentre il lato sinistro è totalmente privo di tasti e nei lati inferiori sono presenti l'ingresso per le cuffie da 3,5 mm e a ne una porta micro USB per la ricarica e la cognitività al computer. Ed è davvero un peccato perché è vero che in questa fascia di mercato è ancora molto presente la porta micro USB, ma se quelli di Huawei avessero deciso di utilizzare una più veloce USB-C avrebbero proprio fatto una sciccheria. Molto interessante lo schermo del P-Smart 2019. Il pannello è un IPS LCD da 6,2 pollici con una risoluzione Full HD+. Si tratta tutto sommato di un buon pannello che sarebbe potuto migliorare esclusivamente per quanto riguarda la luminosità, che abbiamo trovato poco sufficiente e addirittura inferiore rispetto a quella del P-Smart 2018. Un particolare piuttosto irrilevante che non influisce nell'utilizzo di tutti i giorni, anche in condizioni di luce diretta le immagini sono sempre chiari e ben visibili. Buono il bilanciamento dei bianchi, un pochino meno quello della saturazione, ma ancora una volta è un particolare poco importante data la possibilità di modificare la saturazione delle impostazioni attivando il profilo intenso. Il notch è lo stesso visto nel Huawei Mate 20 e proprio come ho detto anche nella recensione della versione media della nuova serie del Mate si tratta della migliore interpretazione della tacca, che non solo è più gradevole da vedere ma lascia molto più spazio per la barra delle notifiche ed è una piccolezza da non sottovalutare in termini di esperienza d'uso. Il processore che anima il Huawei P-Smart 2019 è il nuovo Kirin 710 Octa-Core affiancato, ahimè, da soli 3 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD fino a 512 GB. Si tratta di una configurazione che mi ha lasciato piuttosto perplesso non tanto in termini di processore, più che adatto alla fascia di prezzo a cui è venduto lo smartphone, ma quanto in termini di memoria RAM. Anche se il nuovo Kirin 710 sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni di consumi ed è in grado di garantire buone prestazioni nelle operazioni più comuni, quando si vanno ad effettuare operazioni piuttosto complesse il sistema inizia a tentennare e si presentano dei miracle lag piuttosto consistenti. Va ricordato però che uno smartphone che costa 249 euro in questa fascia di prezzo i compromessi sono all'ordine del giorno. La batteria è da 3400 mAh e sì, per chi ricorda la piccola batteria del P-Smart 2018 che era da 3000 mAh, devo dire sì, le differenze ci sono e sono veramente tante. Il Huawei P-Smart 2019 garantisce un giorno di autonomia anche con un utilizzo molto molto pesante e nei miei test sono riuscito ad arrivare a circa 7 ore di display attivo, il che non è per niente male. Il comportamento fotografico è quello che ho ricevuto l'aggiornamento più interessante. Rispetto alla versione 2018 del P-Smart parliamo di una doppia fotocamera con un sensore principale da 13 megapixel f1.8 affiancato da un secondo sensore da 2 megapixel utilizzato esclusivamente per il calcolo della profondità nelle foto. con effetto sfocato. Il risultato sono foto più che buone per la fascia di prezzo a cui è venduto che si arricchiscono di dettagli grazie alla seconda fotocamera e all'intelligenza artificiale di Huawei che più passa il tempo più diventa ottimizzata. In situazioni piuttosto difficili da gestire le prestazioni di Alp Smart 2019 sono ottime, l'HDR fa benissimo il suo lavoro e anche in condizioni di scarsa luminosità non ci si può assolutamente lamentare. Certo, in queste situazioni di luminosità e in questa fascia di prezzo è più difficile evitare i colori pastellati al rumore ma dobbiamo ammettere che il lavoro fatto dall'azienda non è per niente male. Buoni anche i video registrati alla risoluzione massima di Full HD a 60 frame al secondo non male la fotocamera anteriore da 8 megapixel f2.0 che permette lo scatto di selfie decenti ma nulla di più. La presenza di Android Pie 9 personalizzata con la EMUI 9 rende lo smartphone di Huawei il più aggiornato in questa fascia di prezzo ma proprio come dicevamo nelle altre recensioni degli smartphone dell'azienda io penso che l'interfaccia grafica di Huawei sia forse il loro vero tallone da king perché potrebbe sembrare graficamente obsoleta. Si tratta comunque di un ottimo software che permette l'utilizzo di gesture a posto dei pulsanti a schermo e integra tutte le funzionalità che abbiamo imparato a vedere in tutti i dispositivi dell'azienda. Interessante è anche la presenza della sezione gestione digitale introdotta da Android 9.0 che permette di tenere sotto controllo l'utilizzo dello smartphone e magari correggere un pochino il tiro. Il prezzo di vendita ufficiale in Italia del Huawei P Smart 2019 è di 249€ Si tratta di uno smartphone solido, ben costruito e anche molto bello da vedere che ottiene il massimo dal Kirin 710 ma che è leggermente frenato dalla presenza di soli 3GB di RAM. Un particolare da non sottovalutare quando si acquista lo smartphone ma che è comunque affiancato dalla presenza di un'ottima doppia fotocamera con qualità sensibilmente sopra alla fascia di mercato in cui è venduta è chiaramente dal prezzo, un prezzo estremamente conveniente che probabilmente associato all'hardware è una delle caratteristiche più importanti soprattutto in questa fascia di prezzo per il nuovo smartphone di Huawei. Grazie. 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 Grazie.